Qualche giorno fa la Corte d'Assise d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado per l'omicidio di Maria Tanina Momilia, avvenuto l'8 ottobre del 2018, condannando a 17 anni e 9 mesi il personal trainer Andrea De Filippis, che la massacrò con violenza inaudita fino ad ucciderla, facendola soffocare con la testa infilata in un sacchetto di plastica. Sostanzialmente con la sentenza sono state riconosciute diversi aggravanti, ma non quella della crudeltà. Nell'ipotesi di Tanina, purtroppo, quella violenza inferta era una violenza diretta a far soffrire, oltre che a uccidere, perché i colpi sono stati tanti, devastanti, con calci, con mani, anche con oggetti contundenti e con oggetti taglienti. Oltre ad aver poi ucciso la vittima con un sacchetto di plastica messo intorno al collo, intorno al volto, intorno al collo, è stretto da un elastico e la vittima purtroppo è morta a seguito di asfissia nel suo sangue. Una sentenza dunque che conferma praticamente tutte le accuse nei confronti del personal trainer, comprese cinque aggravanti, fra queste la premeditazione e l'abuso della superiorità fisica, ma che non cristallizza quella crudeltà che al contrario, secondo le due avvocatesse, è stata evidentissima sia nella dinamica dell'omicidio sia nell'efferatezza dopo la morte. Ricordiamoci che il De Filippis porta, premedita questo omicidio, porta una grossa busta nera, fa entrare la macchina nel viale della palestra, cosa che non era mai entrata, diciamo anche che aveva provveduto a staccare tutte quelle che erano le telecamere e quindi che non funzionassero. Uccide la povera Tanina con crudeltà e feratezza e in questo poi che fa? Carica la povera Tanina nel cofano della macchina, la chiude, poi se ne va beatemente in giro, va al McDonald's, si prende il panino, va a comprare un regalino per un amico, va a casa della mamma e si mette a guardare la partita, è sempre il corpo di Tanina dentro la macchina, guarda no la partita, era la corsa delle macchine, poi se ne va in giro, va al cinema. L'avvocato Cappelli prova a fare poi un passaggio ulteriore che è quello di difendere non solo la vittima, la donna, ma anche la madre, strappata prematuramente ai suoi ragazzi. Ricordiamoci però che Tanina era una mamma attentissima, molto molto attenta, lei aveva un amore smisurato per questi ragazzi. Una storia che lascia comunque tanti punti interrogativi e dubbi sospesi, primo fra tutti quello del movente, che nemmeno il processo è mai uscito.